Ragazzi in questo video vi parlerò delle nuove mappe DLC e le andrò a provare a una classifica da 1 a 4 perché sono 4 le mappe DLC e le ho fatte tutte con la stessa arma cioè l'NV4 godetevele e buona visione La prima mappa si chiama Noir ed è ambientata in una città in stile futuristico molto molto giocabile soprattutto con l'NV4 fallout in questo caso è molto molto mi piace come stile infatti è fatta per le distanze medio basse per le armi per le fucili assalto è molto molto versatile come mappa mi piace come ambientazione che è scura ma non troppo di conseguenza aiuta il gioco perché una buona estetica corrisponde anche a un buon gioco anche se avendole provate poco non ho fatto delle grandissime partite come state vedendo questa qui sarà penso una delle migliori quelle dopo saranno uno schifo più totale proprio lo schifo e passiamo alla prossima questa qui è renaissance una mappa ambientata a venezia però infatti è una mappa ambientata nel passato molto molto bella soprattutto belle le chiese tutte le varie decorazioni in stile rinascimentale infatti la mappa si chiama renaissance cioè rinascimento rinascimentale l'unica cosa sono solo le scritte che non corrispondono molto all'italiano vero per esempio oggi c'è scritto gelateria italiano molto italiano come scritta però a parte quello tutto fatto molto bene mi piace anche come mappa è utile anche per i cecchini come mappa non solo per i fucili d'assalto e per questo la consiglio per esempio la postazione nella chiesa che sto per fare sto provando proprio in questo momento comunque una buona mappa ambientata molto bene a venezia costruito molto bene l'ambiente comunque buona mappa e passiamo alla terza mappa questa mappa neon non mi piace un gran che è una specie di città ricostruita con la realtà virtuale infatti quando morite o sparate sparate in blu e dividite in tutti i triangolini chi muore fondamentalmente non è una brutta mappa ma me non piace essendo troppo ampia quindi per il mio stile di gioco non è per niente per niente per niente adatta di conseguenza non ho fatto grande risultati infatti nel nel video non vedrete penso manco una kill per il semplicissimo fatto che non mi sono ancora abituato a questa mappa e ti prendono molto molto la sprovvista da dietro passiamo alla prossima dominion dominion è un remake di una vecchia mappa per questo è molto 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 ampia per questo per me è ingiocabile infatti assumia molto se voi pensate alle maasti le mappe di destini cioè molto ampie piene di 14 spaziali eccetera perché infatti è anche questa ambientata nel futuro qui ho fatto un secondo cioè ho fatto una prestazione molto un po meglio di neon però non mi è piaciuta per il semplicissimo fatto che una mappa troppo troppo grossi grossi è una cosa enorme penso che se qui giocassero nascondino non troverebbero mai nessuno perché è impossibile trovare qualcuno in questa mappa no cioè guardate è una cosa enorme l'unica ci saranno due posti chiusi comunque è finito il video bella ci vediamo alla la prossima